In questo momento stiamo lavorando, ci sono qualche giorno di ferie, quando rientriamo lunedì continueremo a produrre, andiamo avanti fino al 9 di settembre, data importantissima, si è già parlato sui giornali, tramite grazie per il vostro aiuto. Aspettiamo l'azienda, che la Perugia verrà in Peria, e ci presenterà il piano industriale, con la quale esporrà le intenzioni, cosa vorrà fare, sembra che si parli di fabbricato nuovo, moderno, con produzione di paste fresche, paste ripiene e probabilmente vasetti di sugo e succedani, e si parlerà anche della quantità del livello occupazionale che sarà da verificare. Noi crediamo che tutto ciò possa essere in aggiunta al lavoro che facciamo adesso della produzione di paste agnesi e non in sostituzione, anche perché questa produzione nuova non crediamo che possa garantire il livello occupazionale attualmente presente in agnesi, stabilimento attuale.